rapidità è bello il destro di Prodan giù Romero la potenza di Prodan viene fuori così destro duro di Romero l'incontro ancora lui vacilla Prodan gancio sinistro duro è in difficoltà Prodan destro incredibile basta è finito il contatto in piedi qui Prodan l'arbitro gli ha fatto un favore insiste Romero ma ancora in crisi Prodan colpi altro conteggio un altro contatto è in difficoltà basta è finito il combattimento